Una decisione sofferta che non avremmo mai voluto prendere, anche perché abbiamo l'ordinativo in aumento del 35%, tuttavia il costo del metano in questi ultimi mesi sta diventando insostenibile e non possiamo chiaramente ribaltarlo sui nostri consumatori. A luglio abbiamo ricevuto una bolletta di 220 mila euro e a agosto si prevede di circa 300 mila euro, quindi se non ci sono fatti nuove, ma non penso, a metà settembre sicuramente interromperemo la produzione. Una decisione sofferta e non più procrastinabile è quella di chiudere i forni per la storica vetreria del Valdarno, l'Ivv, il motivo è il caro Energia. Al governo immagino vi aspettiate delle manovre, ma sono manovre che arrivano un po' tardi per voi, quindi che cosa si può fare? Noi abbiamo lanciato l'allarme già all'inizio dell'anno, tutto il nostro settore del vetro artistico e della Toscana si era rivolto sia alla regione stessa sia al governo per chiedere gli interventi. Purtroppo fino ad oggi è stato fatto molto poco e ora in questi ultimi giorni ci stiamo accorgendo del problema. Probabilmente stanno parlando di raddoppiare il credo d'imposta dal 25 al 50%, c'è una difficoltà di riprendimento dei fondi, c'è l'idea di una cassa integrazione che non costi per le aziende, ma anche questo è un male minore. Sarebbe necessario fissare il prezzo dell'energia, ma anche questa decisione che passa tramite l'Europa non sarà sicuramente imminente. Di fatto è finanziariamente le aziende come quelle del nostro settore, ma tante altre non possono più reggere in questa situazione. Lo stop indicativamente durerà 13 settimane, in questo periodo noi cercheremo di evadere tutti gli ordini che sono, come dicevo prima, in aumento da qui a fine anno, stiamo cercando di produrre in questi 20 giorni che rimangono tutto il più possibile, quindi tutta l'attività commerciale, le spedizioni chiaramente rimarranno in forza, tuttavia c'è il grande rammare di dover spendere la produzione, in confronto che i nostri dipendenti tra l'altro sono anche soci della cooperativa e quest'anno fa 70 anni e avremmo voluto festeggiarli in maniera diversa.